ciao gente bentornati in una nuova puntata di analisi di house of the dragon finalmente la nostra serie tanto attesa è ritornata video registrato e dedicato in condizioni di fortuna spero possiate apprezzarlo ugualmente allora è tornata house of the dragon e mi sarebbe dire che è bello essere tornati a westeros ma non lo è stato molto come per la stagione scorsa ci saranno spoiler liberi sulla puntata e solo alla fine dopo aver avvisato ci saranno sui libri e con essi ipotesi sulle prossime puntate quindi se non avete letto i libri andate pure tranquilli prima di tutto è stato bello vedere che è tornato allantaylor la sua regia si nota basta pensare al piano sequenza finale la parte tecnica infatti è molto bella spero si mantenga alta per il resto della stagione la scrittura la gestione dei tempi è il problema vero e proprio ma andiamo con ordine la sigla nuova mi è piaciuta sembra la storia dei targaryen in pieno stile a razzo di bayer chi non lo sapesse quello che racconta la conquista normanna dell'inghilterra nel 1066 io ci ho visto denis che sogna lei la famiglia che volano via il disastro di valyria i conquistatori arre nel nero che brucia i vari re e ora lord che si inginocchiano maegor che muore jahres e alizan che sottomettono il credo il gran concilio del 101 alizan e venira che si incontrano scontrano e le incoronazioni parallele di egon secondo e venira concludendo poi con la battaglia sopra capotempesta tra emondellus eris la puntata si apre con una pappardella sull'onore in pieno stile stark un po fan service fino a se stesso se permettete serve solo a ricordarci quanto ci piacevano gli stark e i guardiani della notte ma ancora ancora postarci ci danno un po di loro in più hanno cambiato un po rispetto ai libri visto che pure già eris è arrivato fino alla barriera e che sono stati accolti dal padre di cregan anziché da alaric che deve essere tipo il bisnonno devo riguardarmi bene quell'albero genealogico non l'ho mai capito bene il passaggio tra alaric e cregan oltre poi si scopre che il patto del ghiaccio del fuoco è stato stipulato sulla barriera questo è molto interessante il problema è che ci mostrano jace e cregan amichevoli così senza mostrarci nessun progresso senza nessun inizio di rapporto e nessuna continuazione visto che poi jace torna a casa insomma la prima parte a nord è molto fine a se stessa c'è poi di alore tra renis e daemon in cui vargar viene definita hordy beach un bel fanservice questo davvero mi è piaciuto termine che usavano proprio nel libro poi si parla del lutto ma al tempo stesso si fa notare come renis avrebbe potuto fermare tutto quanto nella stagione precedente e in effetti è vero sono felice che abbiano ammesso i loro errori un po come fa continuano ad enfatizzare gli errori di game of thrones di solo che dicono che i draghi non vanno oltre la barriera e che hanno mostrato gli scorpioni che c'erano già all'epoca quindi non sono stati un'invenzione di kyburn poi c'è tutta la sequenza con venire distrutta che è davvero ben girata e molto toccante interpretazione eccezionale è madarsi fa un po strano vedere venire da sola senza guardie specie in un momento di guerra la cosa che mi è terrorizzati dai draghi fa capire quanto questi bestioni siano pericolosi con o senza cavaliere e al tempo stesso parlano di come non vogliono scatenare la loro furia in guerra perché si teme di non poterla poi controllare sono soddisfatto che stiano enfatizzando la loro potenza e la loro ferocia bello come effettizzano ancora di più il potere profetico di elena avvisando che saranno i topi che la distruggeranno o meglio in accia arriverà da dove arrivano i topi c'è che non si è fregato dei figli per tutto il tempo e ora che gli serve un erede fa subito il padre effettuoso molto viseris in questo ma ci torniamo dopo da ergon diciamo che non mi piace che sia così tanto un cazzone la stagione scorsa si era conclusa con lui che accettava il ruolo di re avrei sperato adesso in una maggiore serietà ciò che è successo a fine puntata lo cambierà di sicuro ma già dall'incoronazione sarebbe dovuto maturare quando aveva visto il supporto che gli dava il popolo tipo tutta la parte con thailand cavalcato dal piccolo geris è troppo stupida sarebbe stato un da egon prima dell'incoronazione invece no adesso dovrebbe essere un po più maturato abbiamo poi la conferma di alicenter che riceve un conilinguo da kriston e più avanti li si vede pure letto assieme insomma non sarebbe a zoria se non ci fosse una scena di sesso no il problema che avviso è che la scelta alicenter kriston non era così marcata nella prima stagione hanno deciso di cavalcarla dopo aver visto l'approvazione del fandom e questo a me porta alla mente brutti ricordi di gott dove il fandom voleva e il fandom otteneva se continuano così ci canonizzeranno la coppia tra elena e daemon quindi sono contento che alicenter abbia avuto un amplesso consenziente e direi anche soddisfacente ma dal punto di vista narrativo sono preoccupato poi il concilio è ok i nomi interessanti tra cui il mio amatissimo dalton greggioi ma la cosa che più mi ha fatto girare le gonadi è che non abbiamo visto le reazioni dei verdi alla notizia che aemon ha fatto scoppiare la guerra il fandom ci ha fatto meme per due anni il libro ci spiega proprio come reagiscono nonno madre fratelli ma qui niente non ce lo mostrano ce lo danno per scontato bello lo stacco tra alicenter nella vasca mentre una serva le lava le mani e renira che raggiunge i resti di arrax e forse di luceris sempre di acqua si parla e rimani sporche eccezionale comunque emma darsi con la scena di dolore abbiamo poi la scena della corte di quando è confrontare i supplicanti devo dire che una cosa nella parte spoiler ma quello che posso dire senza spoiler quello che mi è piaciuto è che egon non sappia come fare il re perché non è stato affatto preparato e in questo si vede un po la sua bontà un po di bontà nel re verde che vuole preparare il figlio sin da piccolo cosa che a lui non è successa ma vuole essere anche buono con il il popolo lui vuole essere amato si vede un po l'evoluzione avvenuta all'incoronazione vediamo anche qualcuno dei suoi amici che sembrano spuntati dal nulla visto che mancavano della prima stagione vedo che siano sui amici visto che dopo li vediamo uracarsi la sera sul trono di spade è assolutamente una cosa non pericolosa misaria mi è sembrata un po meno insopportabile come recitazione attenzione attenzione è stranissimo che io dico una cosa del genere ma tutta la parte con lei è troppo lunga per quello a cui deve portare almeno dopo ci rifacciamo con la scena del funerale davvero davvero molto toccante oltre poi a jace che ritorna a casa e cerca di parlare delle cose tra virgolette importanti ma si sente che non ce la fa e l'abbraccio con renina mi ha toccato molto anche se mi sono incazzato per quanto velocemente sono andati quanto tempo è passato il corvo ha fatto in tempo ad arrivare da dragonstone alla barriera e jace ha fatto in tempo a tornare quanto cacchio di tempo è passato specie perché ha fatto in tempo a passare per la valle cosa che non c'è stata mostrata vabbè quindi alcuni lingua tra jace e jane arvin non c'è stato fungo un po dispiaciuto ma c'è stato un altro con il lingua in questa puntata quindi fungo sarebbe comunque contento abbiamo poi alicent che prega abbiamo la conferma che sua madre si chiamasse aleri florent ma è anche particolare che preghi pure per luceris io dico che se non avessi aiutato i figli contro gli strong boys sarebbe andata diversamente ma vabbè ho apprezzato comunque molto il montaggio alternato tra le candele il tempio di approdo del re e la piva funebbre di luceris poi però qui devo aggiungere una roba che non è nulla di nuovo rispetto a una stagione bella arena belle statuine sullo sfondo stavolta non dico neanche una parola abbiamo poi tutta la parte finale con sangue formaggio e qui mi sono creduto le braccia già daemon si infiltra in capitale un po troppo facilmente non si premura neanche di nascondere bene i capelli platinati sotto al cappuccio è tipo nella prima stagione doveva di persone ad ammazzare rea senza intermediari la cosa peggiore però è che viene meno la responsabilità di daemon perché lui commissiona la morte di aemond che per noi può essere un ragazzo ma in quel mondo un uomo adulto mentre poi sono loro due sangue formaggio a fare fuori già eris questo per questo a me non piace perché sembra che vogliano santificare daemon o almeno non fado sembrare il personaggio grigio che è ci avrò sperato alla fine della stagione precedente visto come metteva le mani al collo a venira ma qui sembra solo commissionare l'omicidio della punta di diamante dei verdi poi ho apprezzato come mostrino la complessità di muoversi attraverso la fortezza rossa cosa che nella prima stagione sembra fin troppo facile ciò che davvero non apprezzato è come sangue formaggio non facciano quello per cui sono passate la storia nel libro ciò che avviene ben diverso e molto più crudele sadico e spietato però l'attrice di elena fia è stata brava a mostrare lo shock e il trauma nell'immediato speriamo bene per come lo mostrerà in seguito mi sembra un po ridicolo che non abbia insistito perché uccidessero lei al posto di uno dei suoi figli piuttosto perché era la mia collana no nel libro lei si offre prego uccidete me e qua non fa neanche un tentativo mi dispettisce come però abbiano reso meno cattiva l'azione del soldato dell'archiappa topi poi è molto angosciante anche il piano sequenza finale peccato che conduca a dare sempre a cristo in intenti a fare quello che si erano ripromessi di non fare ma almeno abbiamo capito perché cristo non fosse di guardia quella sera ricapitolandolo una puntata tecnicamente bella bentornata l'antelor ma per la scrittura c'è molto da migliorare non è un buon modo per darci il bentornato a westeros speriamo bene per le prossime ora faccio la parte spoiler quindi fuggite finché siete in tempo avete risolto i tre secondi 3 2 1 sembra che vedremo i lupi dell'inverno visto che cregan ha detto che manderà gli anziani quindi possiamo ancora sperare per rod di dustin rod di la rovina e allo stesso modo io posso ancora sperare per il mio amato dalton gray joy visto che viene citato dal concilio verde poi sappiamo che non accetterà la proposta dei verdi ma a me basta vederlo poi mi è piaciuto come abbiano iniziato a presentare un po alla volta i vari simili drago abbiamo avuto aline è stato citato adam un po grandi celli rispetto a quelli dei libri quindi nella serie accordis piacciono un po meno le ragazzine più giovani dei suoi figli poi apparso anche hug martello che salta proprio all'occhio con i suoi capelli chiari sfruttiamo bene perché io voglio che trattino bene i due traditori hug martello e ruf il bianco perché voglio restarci male quando tradiranno io ci voglio proprio voglio proprio affezionarmi a loro di no perché avete tradito infine vediamo laris che sta iniziando a tramare per allontanare otto mettendo la pulce nell'orecchio di egon sono curioso di sapere quale sia il suo piano visto che nella stagione precedente è stato lui a far tornare otto in capitale come mano del re poi per sangue formaggio beh se siete qui avete già letto i libri sapete che in realtà non è che dicono o ammazziamo questo aspetta qual è il maschio qual è la femmina dobbiamo ammazzare il maschio no dicono proprio quale vuole uccidere gli fanno fare la scelta così angosciante e poi dopo ammazzano l'altro dopo che dicono ah visto la mamma vuole che tu sia morto e ammazzano l'altro lì quella è veramente la cattiveria spietata di sangue formaggio ammazziamo il primo che capita assicuriamoci però che sia maschio perché ci hanno chiesto un figlio la fase del titolo un figlio per un figlio son for a son viene detto in un contesto diverso viene detto hanno ammazzato un figlio di venia ammazziamo quindi un figlio di alicent non un figlio di egon come dovrebbe essere appunto nel libro quindi secondo me è stata parecchia depotenziata e non è così tanto spaventoso mostruoso terrificante come dovrebbe essere nel libro questo mi dispiace perché sembra quasi che vogliano rendere un po tanto santi i neri e lo dico da membro del team neri dal 2018 io quindi sappiate io ti fa per i neri ma non voglio che vengano mostrati così tanto ingiustamente santi il video si conclude così mettete un mi piace se vi è piaciuto o non mi piace se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale ditemi la vostra attivate la campanellina statemi bene e ciao ciao alla prossima magari per allora speriamo che torni il computer